Controlli, vigili di quartiere, integrazione dei giovani usciti dalle comunità, le proposte del dirigente regionale di Fratelli d'Italia Montalbini per garantire a Fano più sicurezza. Alberto Carelli è il nuovo direttore dell'asta di Pesero Urbino, subentra a Nadia Storti. Riapre al pari centro il punto di ascolto contro ogni discriminazione razziale e sessuale. L'anno scorso sono state accolte 40 persone. Pesero omaggia Luciano Pavarotti nell'anno della Capitale Italiana della Cultura. Sabato, dinanzi al Teatro Rossini, è stata presentata la statua in bronzo, alta 192 cm. Inaugurata a Fano la nuova variante per il patinaggio di velocità e linea, una pista di 290 metri che soddisfa le richieste di appassionati e professionisti. L'alma retrocede in eccellenza. La sconfitta contro l'Avezzano Porta, la squadra a Granata nel campionato regionale non accadeva da oltre 50 anni. Questa sera torna su Fano TV Occhio al Voto il confronto tra Tiziano Busca, Etia Lucarelli e Stefano Poligioni. Lunedì 29 aprile, buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo con l'intervista al dirigente regionale di Fratelli d'Italia, Andrea Montalbini, che ha avanzato diverse proposte per far sì che Fano possa diventare una città più sicura. Montalbini, il tema della sicurezza rimane al centro dell'attenzione, sia della campagna elettorale ma anche della vita quotidiana. Intanto, secondo lei, qual è la situazione nel nostro territorio e anche qual è la percezione della gente? Guardi, il problema della sicurezza è quello che noi sentiamo più di tutti girando per le strade di Fano. È ovvio che se noi compariamo Fano con grandi metropoli come Roma, come Napoli, come Milano, noi rimaniamo un'isola felice. Però bisogna anche registrare che nel corso degli ultimi anni il problema della sicurezza è diventato molto molto sentito a Fano. Fano oramai, il centro storico, è terreno di scontro tra bande, è terreno di spaccio, è terreno di lotte per il controllo del territorio e la percezione delle persone è che Fano non c'è più un luogo sicuro. Avere figli come me, minorenni, e lasciarli girare tranquillamente per Fano è diventato un problema. Le famiglie ci raccontano che hanno paura la sera a lasciar circolare i propri figli per Fano. Ora, la situazione non è drastica, però quello che dobbiamo registrare è che sta piano piano degenerando. Vediamo che gli episodi aumentano e non è semplicemente una percezione, ci sono dei fatti, nonostante il grande lavoro che stanno facendo le forze dell'ordine e anche la polizia municipale, anche con le ultime operazioni volute dal governo, ricordiamo che c'è grande attenzione da parte del governo Meloni sulla sicurezza. Quindi abbiamo visto dei cani antidroga, abbiamo visto soprattutto in centro storico delle grandi operazioni delle forze dell'ordine, anche grazie al coordinamento del prefetto, segno che, un po' come voleva forse raccontarci il centro-sinistra, Fano non è più questa isola così felice, ma la situazione sta degradando. Noi dobbiamo intervenire in maniera decisa e porre degli argini, perché poi sappiamo che se si lasciano queste sacche di delinquenza, piano piano ne arriveranno delle altre. Nel dettaglio, secondo lei, quali potrebbero essere le soluzioni? Allora, sulla parte del controllo sicuramente le telecamere. Abbiamo visto che l'amministrazione si è vantata di aver installato tantissime telecamere, sono arrivate tardi, non sembra che tutte siano collegate, quindi non basta una dichiarazione, occorre installare le telecamere, metterle in rete e iniziare ad analizzare i dati. Occorre presidiare i territori, faccio l'esempio del Pincio, dove sono stati spesi centinaia di migliaia di euro, ma poi se non ci si mette un bar, un'attività, un'associazione, diventa terra di nessuno. Sappiamo che c'è una grandissima attività di spaccio e anche di consumo di stupefacenti, quindi è una contraddizione. Qualifichiamo una parte del centro storico e poi la lasciamo in mano alla criminalità, questo non va bene. Sicuramente il confronto con le associazioni di quartiere che devono ritornare ad essere prioritarie nel dialogo con la città, non solo per la sicurezza, ma per tutto quello che riguarda l'attività del quartiere stesso e secondo me vale la pena di pensare molto attentamente al vigile di quartiere, perché il vigile di quartiere è una soluzione che comunque parla con i commercianti, parla con le famiglie, sente quello che capita nel quartiere, movimenti strani, gente strana ed è un grosso ausilio poi per il lavoro dell'investigativo, delle forze dell'ordine. Sappiamo anche di comunità dove vengono inseriti profughi e immigrati che poi all'improvviso raggiunta la maggiorità vengono lasciati nel territorio e se non hanno lavoro poi verosimilmente potrebbero trovarsi a delinquere. Quindi anche questo passaggio tra queste comunità di accoglienza e il dopo è molto importante perché se non si crea un volano, se non si crea una sorta di relazione tra chi accoglie e chi poi deve integrare, rischiamo di trovarci veramente in una situazione fuori controllo e questa è la percezione che stanno avendo molto i fanesi di una situazione che piano piano sta andando fuori controllo. L'aggiunta regionale ha provveduto alla nomina del dottore Alberto Carelli, già direttore amministrativo dell'asta di Fermu, a nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria territoriale di Pesero Urbino con decorrenza dell'incarico dal prossimo primo maggio. Subentrerà alla dottoressa Nadia Storti che ha presentato domanda di pensionamento da maggio 2024. Cronaca, tamponamento a tre veicoli questa mattina alle 10 sulla strada nazionale adriatica nord all'altezza dell'intersezione con la strada della Galassa. Una Opel Mokka condotta da una ventottenne ha tamponato una Skoda condotta da una donna di 70 anni. Quest'ultima in seguito all'urto è stata sospinta in avanti fino a collidere con una Toyota guidata da un uomo di 69 anni. La viabilità ha subito dei rallentamenti prima dell'arrivo della pattuglia della polizia locale intervenuta per i rilievi. Sul posto anche Anas e il 118 che ha trasportato al pronto soccorso la settantenne unica infortunata in modo apparentemente non grave. Cambiamo argomento al termine di questo lungo ponte del 25 aprile durante il quale anche Fano ha accolto molti turistici. Sono arrivate diverse foto e tanti video per denunciare lo stato di incuria in cui versa la città. A partire dai luoghi più caratteristici come Piazza 20 Settembre, la sua fontana circondata da erbetta e gli orologi del campanile che ormai da tempo nonostante le tante segnalazioni segnano ancora due orari diversi. Stessa situazione per la sirena che a mezzogiorno non suona più. Altri video sono stati realizzati lungo Corso Mattiotti come davanti ai Gabuccini nella piazzetta Enzo Micioli, in via Guido del Cassero che è quella perpendicolare all'arco d'augusto. Inoltre un telespettatore che vive all'estero ma che viene a Fano per pochi mesi all'anno ci ha mandato anche un video del Pincio dove le aiuole ha detto sono una cosa indescrivibile. Per non parlare delle persone che bivaccano negli spazi verdi. Erbaccio è nei palazzi, aggiunto nel centro storico e vicino alle chiese. Una schifezza in una città che per me è bellissima. Anche i singoli cittadini a concluso potrebbero almeno pulire di fianco ai loro portoni di casa. Non solo lavori pubblici di pulizia ma anche in civiltà. E di segnalazioni come questa purtroppo ne riceviamo sempre di più. Passiamo ad altri video girati in zona mare a Sassonia di Fano. Il primo all'altezza di Viale Ruggeri e il secondo all'ex pista dei go-kart. Il mare era ridosso delle scoglieri. Adesso ritirando si sta diventando tutta una spiaggia unica lunga. Vedete? Bello perché si allunga, è più bello, è più sicuro la strada anche se la strada è attualmente sempre rovinata. Hanno fatto i lavori qualche anno fa ma purtroppo la strada è sempre rovinata. E poi questo qui è scandaloso. Questo tubo in mezzo è bruttissimo da vedere su una spiaggia libera. Non è bello e anche per chi si ferma, turisti che vogliono usufruire di una spiaggia libera, vedere questo scempio. È molto brutto ma possibile che non si può fare niente per far sparire questo tubo da questa spiaggia? Bruttissimo. Ex pista dei go-kart. Anche lì dicevano che c'era un progetto per fare delle panchine, del verde, dei tentoni dove la gente poteva anche fare i pic-mic e tante altre belle cose. Ma è tutto abbandonato, tutto abbandonato. Peccato perché potrebbe venire un bel luogo. Non tutti si possono permettere di pagare soldi per andare ai liti e quant'altro. Quindi sarebbe molto più accogliente trovare le spiagge libere, più strutturate, magari con qualche baglino, perché qui non l'ho mai visto un baglino. Ci sarà un sindaco nuovo, ci sarà una giornata nuova. Vediamo cosa lo possono fare. Torna al paricentro di Fano il Rainbow Hub, il centro contro le discriminazioni dovute all'orientamento sessuale, identità di genere a quale tutti si possono rivolgere, ottenendo sostegno psicologico e tutela legale in caso di maltrattamento o soprusi. Gli ambienti più a rischio sono quelli familiari e lavorativi, ma non è escluso quello scolastico. Finalità di iniziative sono state illustrate da Filippo Tricoli della cooperativa Cosmark. Lo ha intervistato Massimo Foghetti. Parte per il secondo anno il progetto Rainbow Hub. Qual è il progetto di quest'anno e quali sono le particolarità? Si parla soprattutto di uno sportello a favore delle discriminazioni, sia razziali ma anche sessuali. Lo sportello Rainbow Hub nasce come sportello antidiscriminazioni, soprattutto legate al genere. Quindi è uno sportello dedicato alle persone che fanno parte della comunità LGBTQIA+, che possono accedere allo sportello in caso di bisogno. Possono accedere e troveranno quali servizi? Troveranno un servizio di consulenza psicologica gratuita e anche di consulenza legale, oltre a percorsi di formazione per la cittadinanza, sempre sul tema LGBT, ma anche gruppi di automutuaiuto per genitori e per persone che fanno parte di questa comunità. Quando sarà aperto questo sportello? Quali sono i giorni e gli orari? Lo sportello è aperto intanto grazie al Comune di Fano e grazie al Paricentro. È aperto il lunedì, il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 14, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 19. È possibile anche contattarlo via telefonicamente? Sì, è possibile contattarlo telefonicamente. Abbiamo una linea dedicata, aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al numero 366 671 4881. E chi risponde? Insomma, chi è a disposizione delle persone che hanno bisogno di un aiuto? Ci sarà un'operatrice per l'accoglienza dedicata che anche quest'anno abbiamo individuato e che risponderà ovviamente con gentilezza e accoglierà tutte le richieste delle persone, le richieste che potrebbero aver bisogno. Quindi ci sono legali, ci sono psicologi, insomma persone esperte che hanno competenze? Sì, il primo accesso avverrà appunto con l'operatrice per l'accoglienza e dopo un primo incontro si definirà quello che è il percorso di questa persona che potrebbe aver bisogno di consulenza psicologica, consulenza legale oppure di entrambe. E quindi si attiveranno tutti i professionisti che sono collegati al centro. Filippo, in conclusione dal tuo punto di vista, come vedi la situazione? È ancora molto problematica? Esistono ancora molte discriminazioni? Diciamo che se dobbiamo guardare a quelli che sono i dati, anche grazie all'aiuto che ci stanno dando le due associazioni arcighei collegate a questo progetto, Agorà e Comunitas, la situazione non è rosea. Nel senso che ci sono ancora parecchie discriminazioni. L'anno scorso abbiamo ricevuto 40 utenti nello sportello e oltre 130 telefonate. Quindi c'è ancora molta strada da fare e come ha citato anche oggi il presidente di Comunitas Marchegiani la nostra speranza è che questi centri diventino assolutamente inutili perché significa che le discriminazioni saranno terminate. Tre nuovi defibrillatori sono stati installati nel comune di Coglia al Metauro. Il primo è stato installato all'Emporium Caffè a Fior di Piano, un altro nella zona industriale di Schieppe in vie dell'Agricoltura 14, l'ultimo nella facciata della sede comunale di Montemaggiore in Piazza Italia. I tre macchinari salvavita, donati da un imprenditore chi ha richiesto di rimanere anonimo, sono collegati con la centrale operativa delle emergenze del 112 e sono a disposizione della cittadinanza. Per lunedì 6 maggio alle ore 18 è stato organizzato un apposito corso per l'utilizzo del defibrillatore. L'incontro si terrà al centro civico di Villanova e sarà a cura dell'associazione Mare Dentro. A Pesaro da mercoledì 1 maggio torna attiva la sosta a pagamento nella zona mare. Le strade interessate sono Viale Trieste nel tratto compreso tra Viale della Repubblica e Viale Gorizia e le traverse comprese tra i Viali Trento e Trieste da Lanfranco a Da Vinci. È possibile chiedere permesso zona e stagionale per residenti e dimoranti, proprietari di attività economiche all'interno della zona indicata e lavoratori con regolare contratto, il tutto al costo di 30 euro per l'intero periodo che va dal 1 maggio al 24 settembre. Rimaniamo a Pesaro dove è stata presentata la statua bronza e ricordo di Luciano Pavarotti in tantissimi tra cittadini e turisti hanno partecipato alla cerimonia. Il servizio di Marco Lomigro. In centinaia tra pesaresi e turisti hanno assistito alla scopertura della scultura bronza che Pesaro ha dedicato a Luciano Pavarotti, grande tenore italiano ma anche artista internazionale, scomparso nel 2007. La donna è immobile, qual piuva il vento Presenti alla scopertura le figlie del tenore Cristina e Giuliana e la moglie Nicoletta Mantovani, presidente della fondazione Pavarotti con cui la città di Pesaro ha stretto un intenso legame. È una giornata molto importante, ha un bellissimo riconoscimento a Luciano e all'amore che Luciano aveva per questa città. È bellissimo che sia nell'anno dedicato proprio alla cultura. È bellissimo che sia proprio in presenza del teatro Rossini, teatro a cui lui teneva tantissimo, teatro nel quale ha cantato diverse volte. È una città veramente speciale che Luciano aveva nel cuore perché era la città dove lui ritrovava la gioia, dove ritrovava la serenità. Luciano era sempre in tour ma Pesaro era intoccabile. La pausa di agosto era sempre meta fissa, credo, di tutti gli ultimi suoi 40 anni. Quindi per lui questo posto era veramente magico. È molto emozionante vedere tutte le persone che sono venute qui e sono anche alcune riemerse dal tempo lontano e quindi ad ogni abbraccio è come rivivere tutta la storia che c'è stata in questa città per la nostra famiglia e per, chiaramente insomma, stiamo parlando di Luciano. A partecipare anche il regista e scenografo Pierluigi Pizzi che da 40 anni è protagonista del Rossini Opera Festival. L'opera in bronzo dall'altezza di 192 centimetri è stata collocata a pochi passi dal teatro Rossini per salutare e accogliere con la sua presenza cittadini e turisti. La statua presentata nel pomeriggio di sabato è stata realizzata con la tecnica della fusione a cera persa. La tecnica antica, fusione a cera persa, realizzata in bronzo è una statua che pesa circa sui 180 kg 1,92 m più 10 cm di marmo in particolare è la base, perché avete visto che è una base rotonda e quindi indica un po' l'occhio di bue quindi ci sarà poi un'illuminazione dove la sera ci sarà Luciano Pavarotti proprio sul palcoscenico come fosse sul palcoscenico ritornato nella città di Pesaro. Invece sabato pomeriggio al circuito Marconi di Fano è stato tagliato il nastro per la variante per il pattinaggio di velocità in linea c'era per noi Cristiana Guerra. Tagliamo il nastro! È stata inaugurata sabato pomeriggio a Fano la nuova variante per il pattinaggio di velocità in linea progettata e ricavata all'interno del circuito ciclistico Marconi nella zona della Trave una pista di 290 metri che soddisfa le richieste degli appassionati e dei professionisti che praticano questo sport fatto di equilibrio agilità, coordinazione e tanto allenamento presenti al taglio del nastro tra gli altri il presidente della Toronsky Center l'unica scuola di patinaggio di velocità della provincia pesarese che ha espresso grande soddisfazione per l'opera realizzata. Oggi è un giorno che aspettavamo da anni infatti sono particolarmente tra l'euforico e l'emozionato perché abbiamo e stiamo inaugurando questa variante all'interno del circuito ciclistico Marconi che ha delle caratteristiche che sono molto molto vicine a quelle che sono le impiantistiche nate per il patinaggio di velocità in line. 290 metri di circuito consideriamo che a livello internazionale le gare già su un 350 metri si possono fare grandi gare e grandi eventi internazionali uno su tutti il recente mondiale che abbiamo avuto in Italia è stato fatto su un circuito di poco più di 300 metri quindi di fatto 290 metri con curve tecniche che si inserisce in un contesto proprio sinergico con l'impiantistica e il territorio circostante è veramente come dicono gli altri tanta roba. Un grande momento di crescita per il patinaggio di velocità sul territorio per un circuito che rispecchia le esigenze della disciplina sportiva grazie al consenso offerto dall'associazione Fano più Sport Sicuramente è lo spirito della società è che è aperta a tutti gli sport e a tutte le società sportive che vogliono e hanno voglia di far far sport ai ragazzi sia di Fano che dell'introterra che dei dintorni quindi questa iniziativa che hanno chiesto e ottenuto anche da noi con il nostro consenso ma era quasi scontato quindi siamo contenti di questa iniziativa e siamo felici che si possa comunque ravvivare anche il circuito Marconi uno sport sempre più praticato che genera benessere psicofisico unisce i giovani di ogni età e diventa palestra di vita L'obiettivo è far crescere il patinaggio di velocità in linea nel territorio Pesaro Urbino della provincia di Pesaro Urbino non dimentichiamo che questo circuito in questo momento è l'unico tracciato della provincia di Pesaro Urbino che ha delle caratteristiche tecniche riconducibili e fruibili per la nostra disciplina quindi l'obiettivo ora che abbiamo l'impiantistica che tutto il territorio si sta muovendo fa ne arrivato per primo è quello di far crescere con i valori della scuola sportiva il patinaggio di velocità Al proposito voleva fare anche dei ringraziamenti Assolutamente sì Queste iniziative non sono possibili se c'è il famoso detto del one man show ormai non si arriva più da nessuna parte con questo tipo di idea C'è una concertazione che va avanti da anni l'amministrazione ha appoggiato la progettualità, l'idea addirittura c'è stato anche uno scambio di progetti tra la nostra federazione, Federazione Italiana Sport Rotellistici e l'amministrazione fanese che ha creduto, ha valutato, ha ritenuto in movimento le famiglie meritevoli di questa opportunità e oggi siamo qui a raccontarlo Testimonial d'eccezione dell'evento fra i vari atleti Elia Fasolo, Veneto vice campione mondiale della categoria junior È una bellissima opportunità è un bellissimo circuito e adesso con questa variante che è stata fatta abbiamo l'occasione di pattinare qua è molto più gestibile e andiamo molto meglio a livello cronometrico a prendere i riferimenti, gli intervalli di tempo e ad allenarci qua tutti insieme abbiamo un punto di riferimento qua a Fano ed è una bellissima cosa questo Ed ora passiamo all'Alma Iventus Fano che dopo esser stata sconfitta sul campo dell'Avezzano retrocede e torna dunque in un campionato regionale questa sera noi siamo in collegamento con il giornalista Andrea Maduzzi che cura i programmi sportivi di Fano TV Buonasera Andrea Buonasera a te e a tutti i telespettatori Grazie per questo collegamento Dunque quella di ieri purtroppo una data che segna la storia e che quindi rimarrà nella storia della squadra Granata L'Alma Iventus Fano tornerà a disputare un campionato regionale dopo quasi 60 anni questo dà già la misura della portata storica e negativo dell'evento un evento epocale si può tranquillamente definirlo così ma non per questo da considerare inaspettato si tratta piuttosto dell'epilogo annunciato di una stagione vissuta pericolosamente nemmeno la prima perché va ricordato due anni fa l'Alma si era salvata all'ultimo secondo dalla retrocessione in eccellenza Qual è la differenza sostanziale rispetto ad allora? In quel caso c'era una proprietà legata a Mario Alessandro Russo che tra moltissimi errori comunque ha perseguito fino all'ultimo l'obiettivo salvezza e alla fine l'ha raggiunto In questo caso lo stesso presidente russo già alla fine della stagione scorsa aveva manifestato chiaramente la propria volontà di disimpegno che poi nel corso dell'estate era rientrata ma ha torto collo come è stato facile desumere poi a metà campionato quando lo stesso russo ha ribadito drasticamente questa volontà di disimpegno annunciando che non avrebbe più adempiuto ad alcun impegno economico e anzi dando indicazione ai giocatori che se avessero voluto avrebbero potuto trasferirsi altrove ha tradotto simbolicamente questa volontà di disimpegno all'accessione di Tenkorang che era diventato l'uomo gol della squadra ceduto a Livorno un sacrificio che è pesato enormemente dal punto di vista tecnico su una squadra che pur tra limiti evidenti di personalità, di esperienza e anche tecnici prima con Scorsini con una certa filosofia e poi con Cornachini con una filosofia diversa era comunque rimasta in linea di galleggiamento Andrea qual è stata la reazione dei tifosi? A chi addossano la responsabilità? Ma i tifosi almeno quelli presenti ad Avezzano sono incomiabili anche ieri come per tutta la stagione come in tutti questi anni al fianco della squadra se la sono presa con Salvatore Guida che è l'attuale presidente dell'Alma Juventus Fan ed è sotto la sua gestione che è maturato questo triste evento l'imprinting però di questa retrocessione in eccellenza va ricondotto a Mario Alessandro Russo perché è stato lui con il suo atteggiamento a tratti anche autoresionista perché si trattava di un bene di sua proprietà a dare l'indirizzo sciagurato a questa stagione la retrocessione si è materializzata ieri ma a radici naturalmente all'alba di questa stagione nel caso dei tifosi comprensibile l'amarezza comprensibile la delusione credo però faccia bene a tutti fare un bagno di realismo e di consapevolezza nel senso che tutti si augurerebbero che il Fano venisse guidato da un'imprenditoria locale appassionata e solida ma questa è un'aspirazione che si sta traducendo in un'utopia è stato difficile dotarsi di una proprietà legata alla città anche quando parliamo degli anni 80 e 90 fare calcio in un certo modo poteva essere anche fonte di guadagno adesso si tratta di farlo quantificando già in partenza un esborso si tratta soltanto di definire la misura di questo esborso anche in campionati delettantistici e anche in eccellenza qualora il Fano, com'è nella sua storia puntasse a risalire in Serie D Andrea, grazie ancora per questo collegamento ne approfitto per ricordare l'appuntamento di domani sera con Sportissimo dopo il nostro telegiornale grazie e buona serata grazie a voi questa sera invece trasmetteremo una nuova puntata di Occhio al Voto saranno ospiti Tiziano Busca del PSI per la coalizione Progressisti per Fano 2050 Etne Lucarelli di Noi Civiche Fano per la coalizione di centro-sinistra e Stefano Poligioni dell'Udc per la coalizione di centro-destra seguirà uno speciale dedicato a Expolia il salotto dell'olio una fiera a mercato che si è svolta a Fano per il telegiornale è tutto ma rimanete sintonizzati su Fano TV